Pepa e Totò, avanti a Prisca Cerasolo che prova il recupero e a Brunello, Prisca Cerasolo che attacca Totò, a destra c'è invece Pepa, ma è in vantaggio Prisca Cerasolo, Prisca che se ne va nel finale da Totò, Prisca Cerasolo alla fine controlla la Chimax anche a San Rossore, in questo caso secondo Totò, alla resa dei conti e poi Brunello e Pepa. Vittoria della Femmina Baia, Prisca Cerasolo, i colori della Chimax, Paola Maria Gaetano, 3 Prisca Cerasolo, la figlia Chiara a segno, secondo Totò, terzo Brunello, quarto Pepa. Quindi 3-4-1-2, ce ne altri? E risponde a Satalia che ha già chiesto l'ordine arrivo, 3-4-1-2 è l'ordine arrivo di questo campionato, seconda tappa e campionato italiano, corse, poi vince Chiara Torchia. È tutto. Grazie a tutti.